Come è la strategia di Open Government? Come è la strategia di Open Government? Sull'uso delle risorse dedicate alle politiche di coesione in modo tale che si migliorino le decisioni di allocazione e di utilizzo di queste risorse per i territori creando e favorendo lo sviluppo di soluzioni più prossime ai territori e che agevolino la creazione anche di servizi per gli stessi cittadini. Le politiche di coesione come abbiamo detto anche in precedenza partono dalla concertazione, dal processi negoziali e l'adozione di una strategia di Open Government non può che aumentare il coinvolgimento dei diversi partner favorendo una maggiore partecipazione alle decisioni. Considerando il paradigma generale dell'Open Government che è stato declinato anche a livello internazionale, la traduzione di questo paradigma che vede trasparenza, partecipazione e collaborazione come cardini della sua realizzazione, rispetto all'iniziativa open coesione si traduce sostanzialmente nell'idea che si possano scoprire, seguire e sollecitare le amministrazioni coinvolte nell'utilizzo delle risorse per le politiche di coesione. La trasparenza è garantita in particolare dal portale www.opencoesione.gov.it che navigheremo nel seguito di questo modulo e dal quale è possibile trarre numerose informazioni che derivano dal monitoraggio dei progetti in attuazione a valere su risorse proprie delle politiche di coesione. La partecipazione e la collaborazione dei cittadini, delle imprese, della cittadinanza più in generale anche attraverso il mondo del giornalismo e il mondo delle diverse associazioni è perseguita con diverse iniziative e con la possibilità, ad esempio sullo stesso portale, di commentare i singoli progetti piuttosto che non attraverso specifiche iniziative rivolte ad esempio agli studenti delle scuole superiori. Il portale open coesione è un portale sul quale è possibile navigare tutti i progetti finanziati dalle politiche di coesione in Italia, siano essi sostenuti da risorse comunitarie o da risorse nazionali specificamente destinate a questo obiettivo. Il portale si presenta con la possibilità di navigare per l'utente il ricco set di informazioni messe a disposizione che consentono di capire quali progetti si finanziano, dove si finanziano, quante risorse sono destinate, quali sono i tempi previsti per l'attuazione dei progetti e quali quelli effettivi e quali sono i principali soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti. Quindi sostanzialmente chi ha deciso e chi sta realizzando le diverse iniziative e i diversi interventi. Alla base di un portale come open coesione vi è un sistema di monitoraggio sul quale l'Italia da anni aveva investito insieme a tutte le amministrazioni, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle politiche di coesione, che garantisce una ricca disponibilità di dati amministrativi che appunto vengono messi a disposizione sul portale e garantendo così una trasparenza per tutti i diversi soggetti. Il portale open coesione dà quindi accesso diretto alle informazioni che sono inserite dalle singole amministrazioni che gestiscono i progetti delle politiche di coesione. Lo strumento su cui si incardina la strategia di open government open coesione è il portale open coesione. Percorreremo adesso i contenuti principali di questo portale attraverso una navigazione guidata, partendo proprio dall'home page del portale, su cui sono riportati una serie di contenuti legati al totale dei progetti e delle risorse, legati alla possibilità di effettuare direttamente delle ricerche per progetto, per soggetto, per territorio e sempre sull'home page sono disponibili dei grafici interattivi che consentono di visualizzare una panoramica della distribuzione dei progetti per tipologia di natura oppure per tema, come anche delle mappe che forniscono una rappresentazione territoriale della distribuzione delle risorse e dei progetti. Direttamente dall'home page sono accessibili delle pillole di open coesione, cioè dei brevi testi di approfondimento su specifici aspetti legati al mondo delle politiche di coesione. Sono raggiungibili i dati scaricabili in formato aperto per un pieno riutilizzo in autonomia, rispetto poi alla navigazione del portale e sono evidenziati i progetti con i maggiori finanziamenti e quelli più recentemente conclusi. Sono infine accessibili una serie di ulteriori contenuti direttamente dalle diverse voci che compongono il footer che si propaga su tutto il sito. Analizzando rapidamente questi principali contenuti, nei blocchi in alto a sinistra sul portale è possibile vedere quanto valgono tutti i finanziamenti monitorati sul portale, a quanto ammontano i corrispondenti pagamenti e qual è il numero dei progetti. Progetti che vengono riportati con importi riferiti sempre a tutte le risorse che li finanziano e che fanno capo a un totale di risorse per le politiche di coesione che è composto, ricordiamo, sia dalla componente a valere sul bilancio comunitario, sia dai cofinanziamenti nazionali, sia dal Fondo Nazionale per lo Sviluppo e la Coesione. Questi quadrati hanno una capacità dinamica di adattarsi ai contenuti che vengono di volta in volta esplorati che possono riguardare separatamente la natura dei progetti, ad esempio le infrastrutture, oppure la navigazione per tema, come ad esempio ambiente, trasporti, cultura e turismo, eccetera, il territorio, oppure il singolo programma tra quelli riferiti ai diversi ambiti di programmazione. In alto a destra, sull'home page, c'è una barra di ricerca che consente di ricercare progetti e soggetti con testo libero e di individuare direttamente dei territori attraverso la funzione di completamento automatico del nome, della regione, della provincia o del comune. Sull'home page si trovano anche dei grafici interattivi che riportano la distribuzione dei progetti secondo la natura e il tema. Anche questi si aggiornano automaticamente seguendo la navigazione sul portale e la grandezza selezionata tra quelle disponibili nei tre quadrati in alto. Sulla parte destra dell'home page è presente una mappa che riporta la distribuzione regionale o provinciale, totale o procapite, della grandezza selezionata tra quelle disponibili nei quadrati in alto. Selezionando poi una regione o una provincia, la mappa scende ad un dettaglio superiore mostrando l'articolazione della grandezza scelta a livello comunale. Sull'home page di OpenQuestione sono evidenziati anche i progetti con i maggiori finanziamenti e quello che ne assorbe di più è il grande progetto per il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli che ha un valore di oltre un miliardo di euro. Accanto ai progetti con i maggiori finanziamenti sono riportati gli ultimi progetti conclusi secondo i più recenti dati di monitoraggio disponibili. Oltre ai contenuti dinamici sull'home page ci sono anche dei contenuti statici, degli approfondimenti come ad esempio le pillole di OpenQuestione, cioè delle analisi con spunti di riflessione sulle politiche di coesione che accompagnano tutti gli aggiornamenti bimestrali dei dati o possono approfondire specifici aspetti per favorire la comprensione delle politiche di coesione più in generale. Sempre sull'home page sono accessibili altre sezioni dedicate ad indicatori, su cui torneremo più in avanti, alla sezione degli Open Data dove sono disponibili tutti i dati pubblicati sul portale in formato aperto con un set di variabili che è addirittura superiore a quelle già visualizzate durante la navigazione sul portale, nonché a una sezione dedicata a iniziative di partecipazione e riuso, di cui parleremo oltre. Nella sezione sui dati in formato aperto di OpenQuestione è possibile scaricare i dati sia in un unico file che contiene tutti i progetti visualizzati che separatamente per ciascun ambito, e cioè fondi strutturali, fondo per lo sviluppo e la coesione, piano d'azione per la coesione e assegnazioni effettuate dal Cipe a valere sullo stesso fondo per lo sviluppo e la coesione. Sempre sull'home page troviamo degli approfondimenti ulteriori come ad esempio una sintesi della ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per le politiche di coesione, nonché un approfondimento sulla spesa certificata che è quella che deve rispettare determinati obiettivi affinché tutte le spese vengano riconosciute da parte dell'Unione Europea. La spesa certificata è un aspetto che non riguarda i dati sui singoli progetti finanziati e visualizzati sul portale OpenQuestione, ma serve soltanto come sezione aggiuntiva per verificare il raggiungimento dei target da parte dell'Italia. Nella sezione inferiore, che viene riportata su tutto il portale, è possibile accedere ad ulteriori contenuti legati alle politiche di coesione, alle iniziative internazionali a cui partecipo OpenQuestione, nonché alle partnership nazionali. Ci sono poi una serie di materiali di approfondimento, documenti e video, è possibile iscriversi alla newsletter di OpenQuestione e accedere alle diverse sezioni da cui si possono scaricare e riutilizzare i dati, sia scaricandoli in formato aperto, sia accedendo direttamente attraverso le API. Passando ora a una navigazione più in dettaglio del portale OpenQuestione, è possibile accedere ad una specifica pagina di ricerca dei progetti, dove, oltre alla ricerca semplice disponibile sull'home page, è possibile selezionare una serie di filtri per delimitare meglio la ricerca di interesse. I risultati delle ricerche possono essere scaricati in formato aperto CSV fino ad un massimo di 15.000 progetti. Per ricerche con risultati più numerosi è necessario scaricare l'intero file CSV. Dalla ricerca dei progetti si può poi selezionare un progetto di interesse ed esaminare tutti i contenuti disponibili sulla scheda progetto. Si parte da titolo, codice, una serie di informazioni legate all'identificazione, all'individuazione del progetto, ai soggetti che sono adesso correlati sia come responsabilità di programmazione e decisione, sia come responsabilità di attuazione, e poi una sezione che indica quali sono i tempi di realizzazione dell'intervento, proponendo sia le date previste quando il progetto è stato inizialmente inserito nel sistema di monitoraggio, sia come date effettive registrate nel corso dell'attuazione. Nella parte destra della scheda progetto sono proposti i dati finanziari con un'articolazione del finanziamento totale pubblico in tutte le diverse fonti, come ad esempio quella del contributo europeo, il cofinanziamento nazionale, un possibile cofinanziamento regionale e altre nature di fonti. viene riportato in maniera molto sintetica il valore dell'avanzamento finanziario ed è possibile espandere la serie dei pagamenti per visualizzarne il grafico in serie storica. Concludono la scheda progetto informazioni legate all'inquadramento programmatico del progetto stesso. Gran parte di queste informazioni sono cliccabili e consentono quindi di proseguire la navigazione a partire da questo progetto e proseguendo sulla stessa natura, sullo stesso tema, sullo stesso programma e così via. Accanto alla ricerca per progetti è possibile fare anche una ricerca per soggetti. Anche in questo caso ci sono dei filtri che consentono di distinguere fra diverse variabili fra diverse modalità di diverse variabili e i soggetti vengono riportati con lo specifico ruolo che essi assumono sul progetto, quindi di programmatore decisore oppure di attuatore e beneficiario. Anche in questo caso dalla ricerca dei soggetti è possibile arrivare sulla scheda del singolo soggetto dove vengono riportati insieme ad alcuni dati identificativi i grafici di distribuzione di tutti i progetti in cui è coinvolto quel soggetto, articolati quindi per natura dell'investimento, per tema, per territori e per tipologia di finanziamento. Sulla stessa pagina sono messi in evidenza ancora una volta i progetti con i maggiori finanziamenti, i comuni in cui interviene quel soggetto che ricevono i maggiori finanziamenti pro capite e i soggetti con cui il soggetto di cui stiamo osservando la scheda lavora di più. Open Quasione non si esaurisce però con i dati sui progetti. Abbiamo già esaminato gli approfondimenti denominati pillole di Open Quasione ma ci sono anche altri dati di contesto sul contesto di realizzazione dei progetti in Italia e in Europa come ad esempio l'indagine sulla trasparenza delle liste dei beneficiari di tutti i programmi operativi in Europa che è stata avviata sin dall'anno 2010 e prosegue regolarmente con cadenza annuale. Oltre alle informazioni di contesto ci sono anche altre informazioni e dati quantitativi come ad esempio quelli sugli indicatori territoriali che servono per leggere i dati sui progetti insieme a una serie di proxy statistiche dei risultati delle stesse politiche. L'importanza di indicatori per le politiche di coesione nasce da una necessità di misurazione del contesto territoriale visto che come abbiamo già detto si tratta di politiche fortemente orientate ai territori misurazioni che poi servono sia per la fase di programmazione e quindi di supporto alla definizione delle politiche sia anche per monitorare l'attuazione delle politiche e in ultimo per favorire anche la partecipazione pubblica. In Italia le politiche di coesione hanno contribuito significativamente ad aumentare la disponibilità e la tempestività delle statistiche territoriali e a favorire la realizzazione dei sistemi di monitoraggio degli interventi finanziati. In effetti a fronte di un panorama iniziale molto povero all'inizio degli anni 2000 oggi la disponibilità pubblica di dati e statistiche territoriali è significativamente cresciuta grazie ad accordi con l'Istituto Nazionale di Statistica e altri soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale. Tra gli indicatori che sono presentati su Open Coesione vi forniamo un esempio sul tema dell'ambiente. Per ciascun tema sono disponibili tutti gli indicatori correlati e in questo caso viene rappresentata la serie temporale dell'indicatore relativo alla quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante. I rifiuti urbani smaltiti in discarica in relazioni a politiche che mirano a favorire una sempre maggiore diffusione della raccolta differenziata idealmente devono diminuire e in effetti questo è l'andamento che si registra a livello nazionale, la serie in blu scuro. Sono rappresentate anche due serie regionali che sono direttamente confrontabili sul grafico come ad esempio il Lazio e la Sicilia che partendo da valori superiori alla media nel 2002 hanno un andamento nel tempo abbastanza parallelo per dividersi poi nell'anno 2013 il Lazio in avvicinamento alla media e la Sicilia invece con una lieve divergenza. Approfondiamo adesso il collegamento tra un'iniziativa che garantisce trasparenza su dati amministrativi e la possibilità di riutilizzo e di avviare iniziative di partecipazione pubblica. La disponibilità delle informazioni amministrative sui progetti finanziati dalle politiche di coesione rilasciate sul portale Open Coesione consente infatti a diversi utenti di fruire di informazioni sull'attuazione dei progetti e quindi di avviare analisi, approfondimenti e anche iniziative di monitoraggio civico sull'attuazione degli stessi interventi. In particolare i dati vengono utilizzati per approfondimenti, analisi, ricerche di carattere universitario-accademico così come di approfondimento settoriale e di approfondimento sulle polisi per studiare possibili diverse articolazioni dell'attuazione delle politiche e anche per favorire iniziative di partecipazione e riuso che vedano un diretto coinvolgimento della popolazione e dei cittadini. A questo proposito è nata un'iniziativa spontanea quale Moniton che può essere consultata sul sito www.moniton.it che parte dall'idea di favorire la realizzazione di vere e proprie maratone di monitoraggio civico e dunque la possibilità che gruppi di cittadini partendo dalle informazioni rilasciate dal portale guardino l'attuazione effettiva degli interventi e approfondiscano le motivazioni che hanno portato alla scelta di alcuni interventi piuttosto che non altri, lo stato effettivo dell'attuazione degli interventi e interagiscano con le amministrazioni direttamente coinvolte nelle decisioni e nell'attuazione degli interventi per migliorare l'uso delle risorse pubbliche. A partire dall'anno scolastico 2013-2014 l'iniziativa Open Coesione ha anche sostenuto un intervento rivolto alle scuole superiori per fare in modo che i cittadini, che gli studenti siano cittadini del domani sempre più consapevoli dell'utilizzo delle risorse pubbliche a favore dei territori in cui vivono e dunque conoscano il territorio che circonda il posto in cui abitano comprendendo come l'azione pubblica immagina di intervenire per migliorarne le condizioni di vita. Dunque è stato avviato il progetto a scuola di Open Coesione in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e con il supporto della rappresentanza in Italia dell'Unione Europea grazie alla rete dei centri di informazione Europe Direct. È un percorso didattico sperimentale che vuole portare nelle scuole italiane una modalità innovativa di lavorare sui dati per conoscere il territorio e comprendere come vengono utilizzate le risorse per gli interventi sostenuti dalle politiche di coesione. L'idea è quindi quella di realizzare un monitoraggio civico sui finanziamenti pubblici rendendo gli studenti in grado di migliorare delle competenze trasversali che ben si intersecano con il curriculum di studi dei diversi indirizzi di scuole superiori esistenti nel panorama italiano e di approfondire dunque, partire dai dati, le caratteristiche del proprio territorio, gli interventi finanziati interloquendo con le autorità e con le amministrazioni che hanno preso le principali decisioni rispetto a tali finanziamenti. L'articolazione del percorso didattico di a scuola di open coesione prevede sei diverse tappe a partire da una prima tappa di progettazione in cui i ragazzi e gli studenti sono chiamati a costruire un progetto di approfondimento sul proprio territorio per attraversare diversi momenti di didattica all'interno del gruppo classe in cui approfondiscono tanto le caratteristiche del territorio quanto i progetti finanziati per favorire un maggiore sviluppo del territorio stesso. Quindi guardando i dati, intervistando attori rilevanti, intervistando la stessa cittadinanza, incontrando le amministrazioni che hanno assunto le decisioni, i ragazzi approfondiscono le caratteristiche tanto degli interventi quanto del territorio che li circonda per poi mettere in pratica attraverso anche le più moderne tecniche di comunicazione una diffusione sul territorio e anche rivolta agli stessi attori istituzionali di tutto quello che sono riusciti a trovare e ad approfondire in questo percorso di approfondimento. Il progetto ha visto nell'anno scolastico 2014-2015 la partecipazione di oltre 86 scuole su tutto il territorio nazionale e l'approfondimento dunque di numerosi progetti di intervento che beneficiano oggi di studi e un percorso di approfondimento risvolto dagli studenti stessi. Per avere ulteriori informazioni e essere aggiornati sui periodici rilasci dei dati sul portale OpenCosione così come sulle diverse approfondimenti e studi e ricerche che vengono svolti a partire dalla disponibilità di questi dati amministrativi è possibile iscriversi alla newsletter andando sulla pagina www.opencosione.it